Grazie, un saluto a tutti, un ringraziamento al Sindaco Congiu per questo invito gradito, perché il tema è importante e bene affatto all'interno di una festa, di una fiera come quella di San Marco, una fiera storica importante, di ragionare su un tema che è stato accennato anche dall'assessore Cucuredo, cioè come creare valore, come generare valore all'interno di un'area periferica, con tutte le difficoltà che sono state dette, anche Pollastra, così come molti paesi come questo, non sono immuni, anzi sono fortemente condizionati dallo spopolamento, dall'invecchiamento della popolazione, dal diradamento del tessuto imprenditoriale, non si fa impresa, non si fanno partite IVA, perché le condizioni sono davvero difficili. E allora in che modo aiutare le imprese a generare valore? Perché poi generare valore significa anche creare lavoro, significa creare quelle condizioni che consentono alla gente di stare sul territorio. Quindi diciamo quello che dico è frutto certamente di un programma di lavoro, che è il sistema delle camere di commercio che rappresentano le imprese, sono 175 mila le imprese iscritte alle camere di commercio della Sardegna, ma se noi andiamo a vedere di queste 37 mila non hanno neanche un addetto, 80 mila ne hanno uno e 40 mila ne ne hanno da due a cinque, quindi di queste 175 mila 160 e più di 160 mila hanno meno di cinque addetti. Questo più o meno per darvi l'idea della consistenza del nostro tessuto economico e imprenditoriale. Allora in che modo creare valore all'interno di territori come questi. Io uso una metafora e così ci capiamo e cerchiamo di concentrarci sulle cose più importanti. Parlo di tre I. Allora la prima I è quella dell'integrazione, perché è difficile pensare di fare sviluppo lavorando solo sull'artigianato artistico se l'idea produttiva, la cultura produttiva è slegata dal territorio, è slegata dagli altri settori della ruralità di cui si è parlato, dell'agroalimentare, della cultura, della cultura locale, dell'identità che è la seconda I a cui volevo fare i riferimenti. E questo, guardate, ci consente di allargare di molto il ragionamento, perché parlare di artigianato artistico non significa solo limitarsi alle produzioni tradizionali ex isola, insomma quelle che vediamo bellissime esposte qua e non solo queste, ma significa parlare per esempio di una identità e di una cultura produttiva legata all'edilizia. abbiamo visto la produzione dei mattoni di fianco, dei suladili, delle tegole e di tutto quello che può avere ed ha un suo mercato. Non solamente quello della Costa Smeralda che compra le tegole sarde, ma quello di una cultura generalizzata, urbana, rivitalizzata nei nostri paesi che possono rappresentare un elemento di grande interesse anche in termini di attrattività di nuovi residenti. E diciamo da questo punto di vista c'è molto lavoro e un ragionamento molto interessante, importante da fare sulla cultura dell'abitare in Sardegna. Abbiamo 300.000 case sfitte in Sardegna. Certamente non ha senso parlare di nuovo consumo di suolo, ma ha molto senso invece ragionare su come riqualificare l'esistenza. Tra l'altro avendo la fortuna anche di avere dei centri storici ancora belli e preservati, insomma molti di questi sono dei presepi, senza altro, insomma molti paesi in pietra dell'Oristanese e dell'Alto Oristanese sono bellissimi, ma anche molti centri storici fatti in terra cruda. Quindi diciamo questa idea di identità e di valorizzazione dell'identità e dell'integrazione con altri settori può essere in grado di contrastare i fenomeni del globalismo, dell'invasione eccessiva dei prodotti che provengono dalla Cina e così come da tutto il resto. Io penso di sì, ma non lo penso solo io, c'è una tendenza interessante anche degli studi, penso agli studi della Fondazione Simbola che è stata fatta, presiduta da Realacci, che sta lavorando molto su questi temi, che dimostra come lavorando su questi temi, sulla cultura dei borghi, sulla bellezza, sulla salvaguardia dell'identità, si possa generare valore. Si possa creare turismo, si possa portare ricchezza generata anche dai flussi turistici e si possano creare nuovi mercati che vengono apprezzati. E di questi giorni la Fiera del Mobile, il Salone del Mobile di Torino, dove ci sono molti prodotti sardi, della tessitura, i tappeti di Samugeo, che sono molto ricercati anche da parte dei designer, degli arredatori un po' di tutto il mondo. Quindi è una qualità che naturalmente ha necessità della terza I, che è quella dell'innovazione. Dobbiamo avere la capacità di innovare entrando in queste dinamiche nazionali che consentono al prodotto fondato sulla tradizione anche di innovarsi. Quindi di dialogare in presa diretta con i mercati, di creare condizioni perché la tradizione non sia quel fuoco trasformato in cenere, ma sia qualcosa che continuamente rinasce e può consentire di dare soddisfazione anche economica a chi se ne occupa. Certamente questo va visto in un contesto di una ricchezza straordinaria che è in larga parte ancora poco valorizzata e poco ascoltata dalla politica in generale, anche se da qualche tempo un po' più di attenzione c'è, per cui la cultura del romanico e qui siamo forse in una patria, diciamo in un territorio ad un'altissima vocazione, le quattro chiese, delle quattro chiese, almeno due da quelle che ho letto sono romaniche, ma c'è Antonello qua che ci può fare poi una sua lezione, la fondazione che è stata costituita è un gioiello su cui la fondazione del romanico, mi riferisco a quella, è una realtà da sostenere e da valorizzare e tutte le iniziative che sono state fatte per esempio sui cammini religiosi, penso al cammino minero di Santa Barbara che è nato come un'idea forse un po' stravagante, è stata l'unica ritenuta tale che adesso porta turisti, porta valore, porta cultura, è aperta al mondo. Quindi diciamo da questo punto di vista io credo che gli spazi siano davvero tanti, però ci sono alcune cose sulle quali occorre lavorare. L'idea di politiche di marchio efficaci, di azioni di marketing che funzionino, è fondamentale. Prima di fatto ho fatto l'esempio davvero paradossale di un marchio senza prodotto, il marchio isola, le prime cose che uno studia quando fa l'economia aziendale, il marketing mix, il primo elemento del marketing mix è il prodotto, se manca il prodotto è difficile immaginare che si possano fare tutte le politiche di prezzo e le altre cose che sono state... Io ricordo un po' di anni fa, almeno 15 anni fa in Camera di Commercio c'era stato chiesto dall'assessorata all'artigianato di registrare il marchio isola. Le Camere di Commercio sono i luoghi di deposito dei marchi e dei brevetti e abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che il marchio isola col cavallino era stato registrato da una ditta di Parma che commercializzava formaggi. Nel senso che aveva scoperto, sì, giù, aveva scoperto che il marchio prodotto dalla regione non era stato registrato, ha preso il marchio e l'ha registrato e ne era proprietaria. La regione ha dovuto aspettare dieci anni, il marchio dura dieci anni una volta che viene registrato in Camera di Commercio, dopo dieci anni decade, quindi avevamo aspettato proprio al decimo anno, questo si vede che commercialmente il marchio non gli aveva reso molto nel vendere formaggi e l'avevamo registrato a nome della regione. Però l'idea dei marchi e dei marchi collettivi, perché anche a proposito di artigianato artistico è tradizionale dove anche ai tempi dell'isola c'era molta creatività e poca tradizione anche in alcuni casi, nel senso che il sistema era un po' abbandonato a se stesso, soprattutto nel primo periodo, non nei tempi di Tavolara e negli anni successivi, ma negli ultimi anni di vita di isola. Ed era stato fatto un lavoro invece proprio di realizzazione, di disciplinare di produzione, di proprio, ricordo che era stato fatto per esempio sulla filigrana sarda, per valorizzare la filigrana rispetto a altri prodotti di importazione, tipo a microfusione, oppure altre tecniche produttive riguardanti la cestineria, la tessitura e altre tipologie di lavorazione naturalmente del legno tipiche, tradizionali. Ecco, su queste naturalmente se si vuole puntare, e questa naturalmente è una nicchia, non quella, non dico che si possa fare economia solo su quello, insomma, perché l'artigianato artistico per essere tale è necessariamente un prodotto di nicchia, però pensare a fare dei marchi collettivi, con un disciplinare d'uso e con un minimo di controllo sulla produzione e con il marchio che certifichi e garantischi anche il consumatore, che quello è un prodotto fatto con i crismi della tradizione certificata, è una cosa che si può realizzare, è stata anche tentata, è stata avviata per un paio d'anni e poi si è fermata, Marco lo ricorderà senz'altro, perché abbiamo fatto sia sulla cestineria, lì avevamo fatto i cestini di sina e di paglia e fiena, streggio e veno, che era una tecnica un po' diversa dalla vostra, ma anche lì con il pieno del grano cappelli, il giunco e il panno che viene usato esattamente, il broccato per fare il centro, però poi veniva il panno rosso, nero a seconda dei casi per fare il tagliato così a strisce per fare gli altri disegni, quindi io penso che vi siano, tra l'altro facendo l'esempio della cestineria, quel tipo di cestine si fa solo col grano cappelli, quindi una perfetta integrazione, come dicevo prima, tra la produzione artigianale con la produzione agricola strettamente connessa, quindi io credo che ci siano molte possibilità di aprirsi al mondo e questo mi consente parlare di internazionalizzazione, anche questa, la terza o la quarta, adesso ho anche perso il conto, perché chiaramente qui come Camere di Commercio abbiamo una funzione fondamentale attribuita dalla legge e tradizionalmente è stato fatto anche con gli artigiani, forse qualcuno anche qui presente lo ricorderà, che consentono anche di affacciarsi ai mercati internazionali, a quelle fiere non solamente nazionali, il solito artigiano in fiera che è un grande mercato milanese, ma anche quelle fiere più importanti, Maison et objet, altre fiere tedesche, americane, che possono consentire di agganciarsi ai mercati internazionali, che è un tema importantissimo. Diciamo da questo punto di vista pensare ad un tradizionalismo legato al folklore è molto limitativo e quindi quello che certamente nel turismo si fa e si fa da anni occorre farlo anche negli altri settori a partire dall'artigianato artistico. Poi nel nostro piccolo naturalmente facciamo le nostre iniziative di valorizzazione del territorio, dal Montiferro per l'agroalimentare alle nostre iniziative programmate per quest'estate. Certo, le altre iniziative che abbiamo programmato anche con gli artigiani da fare nell'estate oristanese, ma c'è molto da fare. La cosa più importante per me, e qui chiudo, è che vi sia la capacità da parte degli enti pubblici, di tutti quanti, la regione naturalmente a cui compete un ruolo naturale di regia e di sostegno finanziario, ai comuni, alle associazioni di categoria e anche alle camere di commercio che pure possono mettere a disposizione un po' di risorse, certamente non tantissime, ma che possono comunque essere a disposizione, anche in collegamento con quelle realtà, mi riferisco alle camere di commercio italiane all'estero che possono essere dei presidi interessanti per poter entrare in relazione con i mercati esteri. E poi la prospettiva mediterranea, ecco, anch'io sono molto convinto che sia largamente sottovalutata la capacità che la Sardegna per il posto che occupa all'interno del Mediterraneo e per il fatto che in Sardegna c'è l'autorità di gestione del programma europeo di cooperazione euro-mediterranea che va valorizzato al massimo, per cui è più facile anche mettere insieme dei progetti che consentano con i paesi dell'arriva sud del Mediterraneo di pensare a tecniche di lavorazione, a forme di cooperazione tra imprese, in questo e in altri settori, perché se poi andiamo a vedere le tecniche produttive non sono molto distanti, non solamente sui manufatti più o meno artistici della pietra, del legno, dell'argilla, della tessitura, ma anche sulle stesse tecniche produttive e costruttive a cui si è fatto riferimento prima. Quindi l'auspicio è che ci sia un'intensificazione di tutte quelle modalità di collaborazione che ho detto prima, quindi l'invito, ma l'assessore di cui Cureddo ne è perfettamente consapevole, ne abbiamo parlato tante volte, è che su questo si spinga davvero, perché le risorse poi ci sono paradossalmente, le risorse finanziarie ci sono, sono a disposizione, non sono moltissime forse, ma credo in misura sufficiente per poter migliorare, per poter migliorare senz'altro l'approccio che rispetto al tema dell'artigianato manifatturiero è stato seguito sino ad ora, è un po' la cenerentora del tuo assessorato. Ne abbiamo parlato per molti anni, ci sono anche delle eccellenze, delle proposte, penso anche alla panificazione, al progetto di confartigianato sulla certificazione del pane e coccoia, non solo, insomma tante cose, quindi si tratta solamente di prendere il toro per le corne e cominciare a lavorarci, da parte nostra insomma all'assessore faremo un dossier di tutte le iniziative avviate che credo che sia utile proprio per capire, scegliendo le priorità da dove partire, ma credo che ci sia tanto da fare. Grazie.